...e l'ultimo Samantha... Ma... ovviamente... ...io chiamo a tutti anche e solo per tutti saluti ma se troviamo del giusto posso cercare la mano, posso cercare la cosina se lo chiedi di qualcosa e sono il docente Vincenzo Raba se chiedi a me di quello che possa quindi si prepari e aspettiamo Buonasera a tutti grazie ecco io volevo un po' parlare del mio romanzo che è uscito a fine maggio, titolo è l'occhiaperti, è il viaggio immaginario, è uno scrittore contemporaneo che attraverso la sua immaginazione arriva nella rivoluzione francese e qui vive alle vicende del loro e dell'epoca. Io voglio invitare tutti, se è possibile, alla prossima presentazione che si dovrà 5 novembre all'associazione Yama, che si trova in via Termina 10, sia da Termino, e lì ci sarà un secondo incontro con anche altri artisti e un'associazione da da poco che accoglie artisti, musicisti, cantanti e altro. Quindi l'invito insomma a venire. 16 e 30, taglio appuntamento 5 novembre. Grazie a tutti, grazie a tutti.